Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 7 gennaio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'aria fredda che continua a fluire lungo le regioni del medio e basso Adriatico apportando fenomeni di stabilità diffusa e nevicate a bassa quota. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino troveremo ancora fenomeni di stabilità diffusa con possibilità di deboli nevicate fino al piano lungo la fascia costiera e nevicate più consistenti nelle zone interne. La ventilazione media proverrà dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente molto mossi o agitati. Nel corso del pomeriggio assisteremo ad un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche con il tempo che andrà a migliorare soprattutto nel basso Terramano e nelle zone costiere, mentre nelle zone interne avremo ancora deboli nevicate soprattutto nelle zone pedemontane. Nel corso della serata il miglioramento avuto nel pomeriggio risulterà più marcato su tutta la regione con i cieli che risulteranno mediamente nuvolosi o molto nuvolosi lungo la fascia costiera e collinare e con possibilità di ultime deboli nevicate nelle zone interne. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.